Un chilo di tritolo per sventrare una dita di import-export e costringerla con ogni probabilità accedere a una qualche forma di richiesta estorsiva. Era questo il progetto criminale di quattro persone, due albanesi, un rumeno e un italiano, arrestate dagli uomini della Guardia di Finanza a Molfetta, poco prima di mettere in pratica il piano. Proprio a Molfetta all'inizio di giugno c'era stato un altro attentato dinamitardo, stavolta portato a termine. Una bomba a carta posizionata in corrispondenza della casa di un sorvegliato speciale molfettese. Pare per motivi personali, stavolta l'obiettivo non era in città. Stando a quanto appurato dalle fiamme gialle, infatti, il bersaglio era una grossa dita di import-export di fondi in provincia di Latina. I militari hanno intercettato in un primo momento i due probabili esecutori materiali, un albanese di 27 anni e un rumeno di 28, sorpresi a Molfetta mercoledì scorso, mentre si immettevano sull'A14 proprio in direzione di Latina. A bordo dell'auto fu trovato un chilo di tritolo con tanto di miccia e detonatore. Il tutto era contenuto in una scatola di metallo, i cui frammenti, dopo l'esplosione, avrebbero potuto ferire o uccidere diversi passanti. A seguito delle indagini, i militari del nucleo di polizia tributaria della Guardia di Finanza di Bari hanno poi individuato sempre a Molfetta i due presunti mandanti, un Molfettese di 38 anni e una albanese di 28, entrambi secondo gli inquirenti coinvolti nella vicenda e sottoposti a fermo di polizia giudiziaria. Le indagini proseguono e nel frattempo sono stati intensificati i controlli nei pressi della ditta in provincia di Latina, bersaglio del possibile attentato.